Stefano Giuliani riparte la tua nuova avventura nel mondo del ciclismo, l'anno scorso era una prima, una ripartenza, 2019 invece ripartirà come? Ecco una conferma, questa è la cosa più importante, è normale che il ciclismo in Italia fa fatica, perciò per me vale doppio gli sforzi che stiamo facendo. Si sta creando un gruppo posso dire eccezionale perché c'è tanta passione nella squadra e direi che adesso aspettiamo un po' gli inviti, al di là del calendario un po' confermato quello italiano, c'è qualche novità, piano piano lo sveleremo. Serbini, Kobayashi insieme alle conferme di Zurlo, di Stacchiotti dell'anno scorso è andato molto bene, che squadra ti aspetti di vedere allo start della nuova stagione? La squadra si fa sempre per migliorarsi, è normale che ho avuto un sacco di richieste, questo mi fa enormemente piacere, un po' è il mercato, dalle World Tour vanno alla professione, le professione cercano magari il rilancio nelle Continental, Io ho cercato di dare più equilibrio perché Serbini potrebbe essere quel valore aggiunto in salita, Kobayashi l'ho avuto appena esordito e comunque era un ottimo corridore, spero che torna ai propri livelli, cerchiamo di mettere a proprio agio ogni atleta e di conseguenza con Zurlo e con Stacchiotti abbiamo due velocisti, tra virgolette, moderni e poi c'è da dire che si è rafforzato molto in Romania, in Romania sta crescendo molto il ciclismo, sono nate ancora altre gare, il Giro di Romania è tornato ai vertici, il Biore è passato di categoria, di conseguenza diciamo di riflesso tutti i migliori talenti rumeni stanno cercando lo spazio in Europa per potersi misurare e migliorare e penso che abbiamo qualche talento che ci farà qualche sorpresa. La maglia rimane uguale perché abbiamo cambiato un po', la novità è proprio quello, il primo nome che è Giotto Vittoria, Palomare il secondo nome, abbiamo fatto un restyling alla maglia un po' per la visibilità sulle strade perché era troppo scura, anche per la sicurezza e più o meno ho cercato di tenere la stessa immagine. Ti faccio una domanda, l'ultimissima, se ti chiedessero di firmare adesso per avere gli stessi successi dell'anno scorso, la firma la metteresti o ne vuoi qualcuno in più? Ma io dico che sai a 60 anni ne ho visto di cotte e di crudo, a me quello che dico ultimamente perché poi si cambia con gli anni, con l'esperienza, la vittoria è la conseguenza del lavoro, io sto facendo di tutto, non mi sono mai fermato un giorno da quando è finita la stagione per ripartire meglio, per organizzarmi meglio, con uno staff anche, tra virgolette, rinnovato, senza nulla togliere a chi mi ha dato una mano, di conseguenza non far mancare niente agli atleti, togliere qualsiasi tipo di alibi e poi se lavori bene le vittorie arrivano, poi possono essere 3, 5, 8, ma per me non è fondamentale perché ho sempre lavorato così, se lavori bene il risultato poi si vede.